Approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale la mozione del consigliere del gruppo misto Fabrizio di Dio Casa è un euro per l'assegnazione agevolata di immobili nel territorio comunale. Una proposta con risvolti socio-economici ma anche culturali, così come veniva spiegato nello stesso documento. Infatti attraverso la semplificazione del processo di mediazione tra le parti nel cedere e acquisire un bene ad un prezzo simbolico, si favorirebbe il recupero degli immobili del centro storico e un suo progressivo ripopolamento. A questo si aggiungerebbe anche l'impatto sul settore edilizio e sul suo rilancio, un richiamo per il turismo e di conseguenza anche un risvolto positivo per le attività commerciali e artigianali. Prendendo spunto da altri comuni in cui l'iniziativa è stata già avviata, Fabrizio di Dio ha proposto, convincendo dunque il Consiglio Comunale, una mozione che potrà essere realizzata attraverso appositi bandi e avvisi, ma soprattutto dopo aver ultimato il censimento degli immobili e abbandonati, fatiscenti o pericolosi, si leggeva nella mozione, iniziato dall'allora assessore architetto Mirazzo dell'Aggiunta Campisi. Nel documento si prevedevano inoltre delle tempistiche per i necessari interventi di ristrutturazione o messi in sicurezza da parte di chi acquisisce l'immobile, chiedendo a quest'ultimo apposita fideiussione in favore del Comune a garanzia di tali interventi, si precisava, pena la risoluzione del contratto e la relativa perdita delle somme versate.